Da Beverly Hills 1990 a Beverly Hills 2023, un viaggio nel tempo con i personaggi conci. Scopri come sono cambiati i tuoi amati protagonisti nel corso di oltre due decenni di avventure e intrighi nella lussuosa città californiana. Guarda con noi questo affascinante confronto tra passato e presente, e lasciati coinvolgere dalla trasformazione di Beverly Hills e dei suoi indimenticabili abitanti. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Ian Ziering nel 1990, 26 anni. Ian Ziering nel 2023, 59 anni. Ian Ziering e Steve Sanders. Brian Ziering nel 1990, 17 anni. Brian Ziering nel 2023, 50 anni. Brian Ziering e David Silver. Jason Priestley nel 1990, 21 anni. Jason Priestley nel 2023, 53 anni. Jason Priestley e Brandon Walsh. Joe, Tata nel 1990, 54 anni. Joe, Tata nel 2023, 86 anni. Joe, Tata e Nat Bussicchio. Gabriel Carteris nel 1990, 29 anni. Gabriel Carteris nel 2023, 62 anni. Gabriel Carteris e Andrea Zuckerman. Kerole Potter nel 1990, 42 anni. Kerole Potter nel 2023, 75 anni. Kerole Potter e Cindy Walsh. James Eckhouse nel 1990, 35 anni. James Eckhouse nel 2023, 68 anni. James Eckhouse e Jim Walsh. Tiffany Tiesen nel 1990, 16 anni. Tiffany Tiesen nel 2023, 49 anni. Tiffany Tiesen è Valerie Malone. Shannon Doherty nel 1990, 19 anni. Shannon Doherty nel 2023, 52 anni. Shannon Doherty e Brenda Walsh. Kathleen Robertson nel 1994, 17 anni. Kathleen Robertson nel 2023, 50 anni. Kathleen Robertson è Claire Arnold. Vincent Young nel 1990, 25 anni. Vincent Young nel 2023, 58 anni. Vincent Young è Noah Hunter. Lindsay Price nel 1990, 14 anni. Lindsay Price nel 2023, 46 anni. Lindsay Price è Janet Sosna. Daniel Cosgrove nel 1990, 18 anni. Daniel Cosgrove nel 2023, 52 anni. Daniel Cosgrove e Matt Darning. Mark D. Mark D. e Spinoza nel 1990, 30 anni. Mark D. e Spinoza nel 2023, 63 anni. Mark D. e Spinoza e Jesse Vasquez. Jamie Walters nel 1990, 21 anni. Jamie Walters nel 2023, 54 anni. Jamie Walters e Ray Pruitt. Caterine Cannon nel 1990, 37 anni. Caterine Cannon nel 2023, 69 anni. Caterine Cannon è Felice Martin. Gianni E. e Spinoza nel 1990, 18 anni. Gianni E. e Spinoza nel 2023, 51 anni. Gianni E. e Spinoza nel 2023, 51 anni. Gianni E. e Spinoza e Kelly Taylor. Tori Spelling nel 1990, 17 anni. Tori Spelling nel 2023, 50 anni. Tori Spelling e Donna Martin. La magia di Beverly Hills e dei suoi personaggi continua a sconvolgerci. Cosa ne pensate di questa incredibile trasformazione nel corso degli anni? Condividete i vostri pensieri nei commenti qui sotto e raccontateci quale personaggio di Beverly Hills preferite. Non vediamo l'ora di sentire le vostre opinioni e condividere questa fantastica esperienza con voi. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.